Dal Signore vi è stato dato il dominio e il potere dall'Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i piani, poiché, essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né avete camminato secondo il volere di Dio. Terribile e veloce si ergerà contro di voi, poiché un severo giudizio si fa contro chi presiede. Senza dubbio l'inferiore è meritevole di misericordia, ma i potenti saranno esaminati con rigore. Il padrone di tutte le cose non teme persona, né si preoccupa della grandezza, perché egli ha fatto il piccolo come il grande e si prende cura ugualmente di tutti. Ma su quanti dominano incombe un giudizio severo. Per voi dunque, o principi, sono le mie parole, perché impariate la sapienza e non possiate prevaricare. Quanti osservano santamente le leggi divine, saranno riconosciuti santi, e quanti le avranno apprese, vi troveranno una difesa.